Alla signore guardate quanto è lievitato signore Nene 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 E guarda mettiamolo a sto un piano da lavoro Ecco lo facciamo così Lo facciamo così Eccolo qua E guarda ragazzi che bello guardate che bello Adesso facciamo Pronto? I pezzi I pezzi devono essere I pezzi sei pronto? I pezzi devono essere intorno Ai 150 grammi Ecco qua questo qua è perfetto Bene facciamo tutti questi pezzi E ci vediamo dopo Eccoci qua Adesso li prendiamo Sono venuti 11 pezzi intorno ai 150 grammi La palla così Ecco La schiacciatina Le prendiamo e li andiamo a mettere qui dentro Nella semola rimacinata Ci diamo una schiacciatina E li andiamo a mettere nella nostra teglia E li facciamo tutti E dopo Ciao a tutti 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 Ciao a tutti